Si vede perché si sporca la giacca No, no, la giacca è così, la gravata l'ha fatto già, bellissima Senti Luca, ma si rende questo quadro? Eh, buonasera a tutti, sì, questo quadro Ragazzi, scusa, facciamo un applauso a Luca Lamarca Perché credo che mi convenga anche Igor Dipingere live è difficile, no? Poi ci leggerà il concetto, qualcosa, una stazione Cosa rappresenta questo quadro? Allora, io ho qua Però come gli altri che sono esposti Sono sempre a tema Il tema della serata appunto va ad abbracciare il lavoro che è su acrilico Su matela, con le pietre, gli acrici Che ho fatto i collage di carta Sono stati selezionati e lavorati al computer Data una disposizione logica Tra l'altro nei tavoli c'è appunto la descrizione all'interno della busta Se qualcuno non può piacere di leggere E nel quadro c'è raffigurato quello che è il mondo Africa bambini Tra l'altro all'interno del quadro Chissà, vede tre foto che hanno scattato Della fondazione Don Bosco I bambini che sono dalla fondazione Don Bosco all'interno di questo quadro E quindi ho cercato di contestualizzarli con un tema che è la mia tecnica Cercando di dare un po' di... E' in vendita questo quadro Questo quadro me l'ha messo l'asta totalmente devoluto Io... Ragazzi scusate perché questo... Abbiamo scherzato, abbiamo riso, abbiamo raccolto 7000 franchi E' stato... Sì, no, sì Felici, no Però quello è un po' il simbolo di questa serata Però questo è il simbolo della serata Abbiamo deciso all'ultimo di mettere all'asta ovviamente anche il quadro Adesso, base d'asta 1000 franchi Ed è il simbolo della serata Questo... E chiedo, visto che qua Luca, Luca